Dopo le diverse segnalazioni dei cremonesi che lamentavano le lunghe attese per riuscire a rinnovare il documento d'identità presso l'anagrafe di Cremona, tempi che molto spesso superavano i 100 giorni, l'amministrazione comunale di Cremona ha voluto dare dei chiarimenti in merito. In questo momento ad esempio ci sono quattro sportelli operativi e se lei ha bisogno di una caratterità urgente, urgente significa che c'è una scadenza imminente oppure un viaggio all'estero oppure un furto, uno smarrimento, c'è un appuntamento a dicembre, verso la metà di dicembre. Se invece non ci sono urgenze l'appuntamento utile è per l'inizio di febbraio. Quanto ci vuole per emettere da parte vostra il documento d'identità? Allora il tempo va da un quarto d'ora a 20 minuti, in quanto a differenza della carta di identità cartacea, che era un'operazione più veloce, adesso c'è quella elettronica. L'elettronica comporta la connessione all'ANPR, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, e la nostra banca dati non è più locale ma è nazionale. Quindi se ci sono dei disallenamenti con la banca dati nazionale è necessario fare l'operazione. Ci sono le impronte digitali da acquisire e anche la scelta della donazione degli organi. Il telefono è sempre, c'è un'operatrice apposita che risponde, quindi a volte noi diciamo mandate le mail perché le mail sono più immediate. Ma nonostante la Presidente ci abbia detto che il telefono è sempre attivo, i cittadini continuano a dire che non riescono a mettersi in contatto con l'ANAGRAFE in quanto non risponde nessuno.